Io penso che Vivi Internet al sicuro sia un'iniziativa di grande importanza, soprattutto per l'appuntamento di oggi dedicato ai minori. I minori, ci dicono le statistiche, sono dei grandissimi fruitori della rete Internet, sono coloro che insegnano ai genitori ad utilizzare le applicazioni, però è anche vero che sono quelli più esposti ai rischi, perché per loro tutto è naturale. Io penso e dico sempre che noi anziane generazioni siamo quelli che riusciamo a utilizzare Internet e le sue applicazioni al meglio. Il giovane le utilizza da nativo digitale, vedendone solo gli aspetti positivi e non gli aspetti negativi. Ed ecco quindi, qui mi ricollego un po' a quanto diremo oggi, la consapevolezza del minore è fondamentale. Aiutare il minore ad avere consapevolezza che Internet non è più soltanto un luogo virtuale. Le interrelazioni che ci sono tra mondo virtuale e mondo fisico oggi sono totali. Parliamo di un Internet delle cose, parliamo ormai di web.dre. È evidente che ciò che si fa in rete oggi si espande nella nostra vita di tutti i giorni. E il minore ha diritto che la sua infanzia resti tale e che quindi non si porti per sempre questi fardelli determinati da atteggiamenti a volte soltanto infantili. Il regolamento europeo del quale parleremo oggi prevede espressamente per la prima volta il diritto all'oblio in modo generalizzato riguardante tutti. C'è in approvazione nel nostro Parlamento un disegno di legge che parlando di cyberbullismo riguarda anche il diritto all'oblio dei minori. Però è evidente che ci troviamo di fronte ad un diritto solo giurisprudenziale fino a questo momento. Lo stesso regolamento europeo contiene una disposizione che andrà specificata e non soltanto applicata. Dobbiamo innanzitutto renderci conto che l'informazione ha vari aspetti. Quella professionale e poi c'è la libera manifestazione del pensiero. E quando io manifesto il mio pensiero, questa è la mia opinione, devo sempre avere la possibilità di fare marcia indietro perché io sto dando i miei dati, questi miei dati sono utili a me, non sono utili alla comunità. Se mi rendo conto che ho sbagliato a darli, devo avere immediatamente la possibilità di riaverli indietro. Questa è la mia opinione.